Questi oggetti di ceramica venivano utilizzati da mia nonna per cucinare, bere e mangiare. Vederli mi dà tanta gioia, ma anche tanta nostalgia. Per me questi oggetti devono rimanere qui, in questa vetrina del MUDEC, in modo che tutti possano vederli e conoscere la cultura del mio paese. Distretto X con i tuoi occhi è un progetto di inclusione che racconta le opere del MUDEC dal punto di vista di persone fragili. Vediamo l'arte da una prospettiva che ha radici più intime ed emotive, forse anche più vere. Perché l'arte è un'emozione negli occhi di chi guarda.